12 anni no dico la prima volta che l'ho visto ho pensato carino è carino ma simpatico come la pulizia dei denti invece pazzesco che sai cosa mi organizzo stasera amore mi sento uno straccio e ti vedo senti io vado a letto chiamate in ufficio e te che non vanno perché io ci credo che lui sta male questa sorpresa quando fa così mi organizzo sempre qualcosa e chissà che cosa mi fa stasera magari mi organizzo un altro matrimonio allora mia moglie entrerà da quella porta la riconoscerai sicuro perché la stessa di 12 anni fa quando è suonato per noi quando arrivi in questo esatto punto tu parti con la marcia nuziale capito? torta nuziale perfetta identica perfetta è arrivato Don Luigi che neanche ci riconoscerà da 13 a 93 anni ma ci ha sposato lui ah ma la barella entrerà nell'ascensore beh romantico sarebbe romantico certo il mio marito ha le capacità organizzative di un cocker probabile che chieda aiuto a qualcuno che di feste ne sa qualcosa più di lui e qui Deborah farà la lap dance ma non so un palo della lap dance per una festa dell'anniversario di matrimonio ma per forza una ricorrenza triste ci vuole qualcosa che tiri un po' sul morale ma non è mica un funerale? no infatti nella bara invece del cadavere ci saranno un spogliarellista vivo vivissimo vuoi affittare una bara? preferisci rubarla? no tu stai facendo il taccagno per il tuo anniversario di nozze? ma no la questione è che volevo una cosa più normale che ne so tipo una bella tavolata ma ci sarà anche questa e poi sei camerieri in costume sadomaso no? che entreranno con questo enorme vassoio d'argento e sul vassoio? io nuda ma non è che poi Deborah si arrabbia? va bene un vassoio anche per Deborah oddio scusate care per un attimo vi ho immaginato fare da contorno ad Anna nuda che brutta immagine che poi non è che per organizzare una partita di calcetto ti devi per forza rivolgere a un capo ultra puoi farla più semplice puoi chiedere una mano anche a qualcuno di più razionale quante tartine pro capite abbiamo calcolato? sono 4.13 tartine pro capite capo mi hai contato a parte i celiaci? li scorporo subito capo forza capo abbiamo un problema l'invitato 34 potrebbe generare un ammanco nella disponibilità degli antipasti misti per che? potrebbe portare una fidanzata nuova e pare sia vegana ma sto aspettando un report più preciso Sonia che priorità l'invitato 34 priorità B.3 capo non è decisione non possiamo farlo fuori potremmo cambiare il planning del buffet spostare l'humus fra gli antipasti e le mozzarella di bufala fra i secondi tu sei un genio Sonia esegui e trova la curvatura termodinamica del prosecco mi tratti sul cessalo del ghiaccio mi preoccupano sarebbe una festa terribile se qualcuno mangiasse due tartine in più probabilmente crollerebbe Wall Street che poi in fondo è solo il nostro anniversario di matrimonio e magari non gliene frega niente a nessuno per favore non vuole venire nessuno la festa sorpresa per il nostro anniversario vieni almeno tu non ci penso neanche ti prego no ti supplico no ti pago fammi ci pensare no vabbè grazie mamma è sempre un piacere contare su di te e se la sorpresa è che non ci sarà nessuna sorpresa ma sai che c'è ma chi se ne frega ma dicono sempre che il matrimonio è il giorno più bello della vita ma non è vero niente sono 12 anni che sono sposata e ogni giorno è il giorno più bello della mia vita ciao vediamo il malattino eh ma è 37-1 è grave amore io andrei a letto ma no amore il nostro anniversario io voglio stare con te eh sì sono 12 anni che stai con me non ti sei rotto le balle no dai fammi stare qua ah no amore no se non stai bene devi andare a letto 37-1 eh vai copriti 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 ti amo ciao 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 Grazie a tutti.